Ciao a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite Prima di iniziare questo video vi ricordo che il suo canale è attivo un contest per ottenere il piccone minti totalmente gratis Se volete ottenere il codice di uno di questi picconi vi basterà seguire tre passaggi molto semplici Dovete essere iscritti a questo canale e aver attivato la campanellina delle notifiche Dovete andarmi a seguire su Instagram, il mio nome è r4-basso E all'interno del negozio oggetti ovviamente sotto la voce supporto a un creatore dovete inserire il mio codice RASCO-OMG Quarto passaggio fondamentale ci sarà l'estrazione domenica in live Infatti dovete essere presenti domenica dalle 9 fino a mezzanotte fra una live Dove andremo ad estrarre il vincitore di questo piccone totalmente gratuito Quindi mi raccomando partecipate alla live di domenica ed eseguite tutti i passaggi che vi ho detto precedentemente Perché ovviamente saranno richieste le foto di conferma e di verifica per ufficializzare che tutti i passaggi sono stati eseguiti E quindi per legittimare il vincitore di questo piccone Nella giornata di ieri è iniziato il concorso Pesca Scatenata di Fortnite Competizione che ha visto circa l'80% dei player di Fortnite impegnati nella pesca Infatti come sapete bene possiamo ottenere delle ricompense da questa attività Abbiamo tre ricompense disponibili Una è questo lama qui inciso dove verrà targettizzato il nostro nome di Epic Games Per ottenerlo dobbiamo essere il miglior pescatore cioè dovremmo aver preso il maggior numero di pesci in una singola partita Possiamo anche trovare il maggior numero di pesci piccoli durante la competizione Di flopper sempre durante la competizione o pesci succosi durante la competizione Una di queste quattro categorie ci dà l'accesso a questo lama inciso Abbiamo poi la seconda ricompensa che è la più semplice ad ottenere Infatti dobbiamo semplicemente buttare la nostra cannata di pesca all'interno delle acque di Fortnite E pescare un qualsiasi tipo di pesce Una volta ottenuto questo pesce alla fine del torneo ci verranno dati questi premi Ci tengo a sottolinearlo perché so che me lo chiederete qua sotto nei commenti E una volta terminato questo torneo in questo caso ci daranno questo spray qui totalmente gratis Ma arriviamo alla ricompensa più ambite tra tutte quante Quella di ottenere il pesce rosso mitico per prendere un premio immediato Non so se avete visto il video di questa mattina C'è una piccola delusione dietro questo premio immediato perché si tratta di questo piccone qui So già che molti di voi magari sono in possesso di questo piccone Infatti secondo me Fortnite Epic Games ha fatto un po' una sciocchezza Perché magari chi ha già questo piccone essendo che è stato presentato più volte all'interno dei negozi oggetti Non è motivato all'interno di questa ricerca del pesce rosso mitico Se mi state scrivendo qua sotto nei commenti Ma se io già ho il piccone e trovo il pesce rosso mitico cosa mi dà Epic Games Vi blocco subito perché ancora non ci sono informazioni, notizie certe Penso magari che vi dia dei V-Bucks Però ancora questa situazione non si è presentata Un'altra precisazione che ci tengo a fare è rispondere alla domanda Ma quanti pesci rossi si possono trovare all'interno di una giornata? Beh ecco andiamo semplicemente all'interno delle classifiche che sono uscite ieri E andiamo a vedere quanti giocatori nella giornata di ieri sono riusciti a trovare i pesci rossi mitici Eccoli qui abbiamo ben 4 giocatori che hanno ottenuto un pesce mitico Quindi nella giornata magari di oggi se già un player in Europa trova un pesce rosso mitico Anche tu magari ne puoi trovare un altro senza problemi Ma arriviamo alla domanda che mi avete fatto ieri tutti quanti in live Dove posso trovare questo pesce rosso mitico? Beh ecco sicuramente sia all'interno di questi banchi di pesce Dove solitamente c'è più frequenza che troviamo i flopper oppure i pesci slurp Come potete vedere infatti è uscito fuori un flopper O anche in queste acque belle tranquille e belle fresche C'è la possibilità che esca va bene sì ovviamente anche i fucili, munizioni, legno, materiali e così via Ma anche i pesci piccoli E vi do la conferma che potete trovare anche i pesci Ecco qui un pesce piccolo, vi do la conferma che potete trovare anche i pesci rossi mitici Quindi non è detto che solamente all'interno di questi banchi di pesce possiamo trovare il pesce più ricercato all'interno di questa competizione Ma magari vi trovate in una zona, in un punto della mappa dove non ci sono banchi di pesci State tranquilli, buttate la vostra canna, buttate la vostra esca nell'acqua E magari uscirà un pesce rosso mitico Non c'è una zona ben designata della mappa di Fortnite dove possiamo trovare i pesci rossi È un meccanismo basato totalmente sulla fortuna Quindi non è detto che se peschiamo all'interno delle acque aperte Ci siano più possibilità di trovare il pesce rosso mitico Piuttosto che pescare all'interno di questo laghetto Signori spero che questo video vi sia stato utile Vi abbia chiarito un po' le idee in merito a tutta questa competizione Lasciate un bel like Condividete questo video con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina delle notifiche Non vi scordate il contest per ottenere questo piccone minti totalmente gratis Buona fortuna, non vi dico buona pesca perché in genere porta sfiga Ci vediamo all'interno della competizione E le belle, mesami